Un volo di diversi metri dopo lo schianto con la moto è morto sul colpo Alessio Beccarisi, 33enne di Galatina. L'incidente è avvenuto nella notte sulla strada provinciale 90 che collega Galatone a Santa Maria al Bagno. Un incidente autonomo la cui dinamica è il vaglio delle forze dell'ordine. Beccarisi viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando è avvenuto l'incidente in un tratto rettilineo. Potrebbe aver incontrato un ostacolo improvviso o aver perso il controllo per la velocità. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme dopo aver visto la moto sul posto. È giunta un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per i rilievi sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Galatone. Su disposizione del pubblico ministero di turno la salma è stata restituita alla famiglia.